Buonasera a tutti, vi prego di prendere visione sia del disclaimer che dell'avvertenza sul rischio con CFD e anche nota bene su quest'analisi retail perché lo scopo di questi webinar didattici non vanno intesi per nessuna ragione come incentivo all'investimento, ognuno è responsabile delle proprie azioni derivanti dall'utilizzo di questo tipo di analisi. Allora, questa sera andremo un po' a fare un recap di quello che è stato spiegato nel primo webinar leggevo in chat che molti di voi comunque già ieri erano presenti quindi non devo andare poi a rispiegare un po' tutto però prima di fare un recap e poi rispondere alle domande voglio farvi vedere una cosa che ieri mi è sfuggita sulla dashboard che reputo che sia molto interessante, in realtà me l'ha fatta notare Salvatore che è il programmatore che può essere una cosa molto utile, quindi farò questo, vi mostrerò come attivare le notifiche push direttamente sullo smartphone, poi il recap di quello che abbiamo spiegato ieri, le risposte alle domande che non hanno ricevuto risposta e spiegazione del partner swing che poi sarebbe l'entrata che viene effettuata al mercato quindi che logica segue l'expert, l'antigrid, la spiegazione della tabella Excel sul rischio di ogni singolo strumento ieri ho fatto vedere qualcosa però questa sera cercherò di entrare più nel dettaglio e poi come sempre abbiamo visto ieri faremo un po' un'impostazione dell'operatività giornaliera ricavata dall'analisi retail in tempo reale per la giornata di domani Allora, quindi rivado sulla mia piattaforma e vi prendo la dashboard, la devo solo trovare, dove l'ho messa dovrebbe essere all'inizio ok, se clicchiamo cliccando con F7 dalle variabili esterne abbiamo due alert che noi possiamo attivare che è quello della mail che è anche poi il push notification che io ieri ho un po' tralasciato però in realtà possono essere molto utili perché soprattutto per chi non ha tempo di stare magari sempre sul grafico ma ha bisogno di un alert e quindi quando si ha un determinato livello raggiunto sull'analisi retail può essere interessante ricevere una notifica sul proprio cellulare come si fa? innanzitutto si deve attivare qui un alert, questo va fatto proprio dalla piattaforma quindi non so, se vogliamo vedere USD Yen e quindi andiamo un po' a scegliere una direzione e dire quando arriva almeno 60% short, visto che adesso diciamo USD Yen è in sostanziale equilibrio però come ho fatto spiegare diede sulla tecchina del primo incrocio bisognerebbe aspettare almeno una soglia del 60% per evitare quei falsi segnali derivanti appunto dai possibili primi incroci dell'analisi retail io cliccando almeno 60% e l'alert sì, praticamente l'alert quindi ci informerà che a meno 60% riceveremo una notifica possiamo riceverla come dicevo sia sull'email che sullo smartphone quello sullo smartphone è molto carino come si attiva? innanzitutto bisogna mettere qui in F7 true perché abbiamo il true e il false quindi mettendola in true attiviamo questo primo passaggio e diamo ok poi da strumenti spero di ricordarlo perché Salvatore me l'ha fatto vedere se però dovrebbe essere anche lui forse in chat nel caso dovessi dimenticarmi qualcosa chiedo a lui ma è molto semplice quindi da strumenti e opzioni andare su notifiche ci sono due spunte una è abilità notifica push che è appunto questa qui del meno 60% che mi avvisa e l'altra notifica di transazione di trade questa è quando è entrata al mercato quindi andando ad abilitare entrambe e mettendo il vostro MetaQuote ID il MetaQuote ID lo trovate nella piattaforma mobile di MetaTrader 4 quindi dovete scaricarla nel caso abbiate un iPhone o Android direttamente ovviamente sul vostro cellulare poi dalle impostazioni cliccando su impostazioni e scorrendo in basso in messaggi c'è proprio una sezione chiamata messaggi questo sto parlando di Android ci sarà MetaQuote ID dove andrete a inserire il vostro ID in questo campo e potete lanciare una prova quindi cliccando sulla prova arriverà una prima notifica di MetaQuote poi cliccando ok quando raggiungerà la quota di meno 60 riceverete anche una notifica push sul vostro smartphone che mi indica guarda c'è questo in retail hanno raggiunto il 60% quindi questa è una cosa molto carina che possiamo comunque sempre tenere tracce e quindi utilizzare credo che sia abbastanza semplice come attivazione e facendo un po' un recap di quello che abbiamo spiegato ieri sostanzialmente abbiamo spiegato due strategie quindi abbiamo spiegato un po' la logica quella del primo incrocio cioè quando le posizioni poi si sovrappongono come in questo caso abbiamo fatto vedere esempio sulla sterlina e poi quello che io definisco un po' l'eccesso retail e abbiamo visto l'esempio su USDDN adesso io qui ho tolto le medie mobile ma poco importa che sostanzialmente va a intercettare quei movimenti in cui il trend è partito molto forte quindi c'è molto interesse da parte dei trader a retail ad andare contro questo setup e quindi abbiamo è caratterizzato da una forte presenza di trader a retail contro mercato quindi raggiungendo sogli anche del oltre il 90% e quindi arriviamo in zone di cosiddetto eccesso questo eccesso si concretizza quando però l'altra parte dei trader quindi quelli che un po' sono o rimasti in attesa o comunque hanno dedicato tutto il loro diciamo la loro operatività in long iniziano a interessarsi sullo short e quindi è il classico esempio di quando si va a cercare il pullback a favore di trend quindi abbiamo visto il caso appunto di USDDN dove dopo una discesa al primo ritracciamento che USDDN ha fatto il prezzo medio di carico di chi era short su questo livello ha iniziato ad aumentare quindi passato da 105-72 quindi con un 7% a un 14% quindi in questa zona si è manifestato l'interesse da parte dei trader ad aprire posizioni short in un classico eccesso venivamo da un trend molto forte quindi che cosa è successo? che chi era long ha iniziato a uscire dalle posizioni o comunque l'ha chiuso in perdita per margin call e altri magari tipi di operatività però quello che a noi più interessa è che chi è iniziato a mettersi short su questi livelli purtroppo poi rimane tra virgolette incastrato perché poi il trend in realtà va ad invertire e ce ne accorgiamo sempre dalle fasi di accumulazione dei prezzi medi di carico come in questo caso su USDDN comunque questo è un po' un recap ma poi con gli esempi operativi che tra l'altro ieri poi abbiamo visto anche su tre strumenti che sono andati tutte e tre bene però poi faremo proprio anche poi l'esempio su come si spostano i prezzi medi di carico perché quello che è il focus dove noi ci concentreremo è come variano questi prezzi medi di carico da un giorno all'altro cioè l'interesse come cambia da una sessione all'altra poi quando troveremo una fase di potenziale eccesso o una fase di primo incrocio cercheremo ovviamente di tradarla come vi ho spiegato quindi questo è un po' il recap io adesso risponderei anche un po' le domande che mi avete fatto ieri che non ho avuto modo purtroppo di rispondere le ho elencate qui sono circa 23 però alcune sono un po' ripetitive quindi magari spiego un concetto e poi vale anche per le altre domande allora la prima era sul discorso di come caricare l'indicatore, la dashboard sul grafico in effetti io ieri vi ho fatto vedere come scaricarlo quindi nella linea di Google Drive però poi sostanzialmente non l'ho messo sul grafico quindi come funziona? si prende un grafico euro-dollaro si prende l'indicatore in questo caso il TS Position Retail Charter si va a trascinare sul grafico bisogna impostare il permette importazioni importazioni DLL perché questo lavora con delle librerie esterne quindi è necessario avere il flag su queste due caselle dopodiché i valori input questo lo lasciamo di default anche i colori, il resto e diamo ok e quindi compare qui il nostro indicatore quindi questo è un po' il passaggio da fare su invece sull'expert che è la dashboard come vi dicevo è appunto l'expert che gira bisogna anche qui trascinarlo avere queste impostazioni quindi abilità all'armi potete anche non metterlo però permette i compravendimenti in tempo reale in questo caso è una funzione dell'expert e anche qui permette importazione DLL i valori di input li avevamo visti già ieri e poi premere ok e viene caricato anche qui l'expert con appunto tutte le varie i vari indici questa forse magari è una vecchia versione ancora però vale lo stesso discorso quindi questo è un po' sostanzialmente su come viene caricato questo tipo di expert e indicatore allora poi un'altra domanda era non ho sentito se le A e l'indicatore sono disponibili a tutti o solo a chi ha un conto con TIC1000 questo poi l'ho spiegato verso la fine del webinar però ve lo ripeto l'expert e l'indicatore sono insieme anche all'expert l'antigrid per tutti i clienti TIC1000 in maniera del tutto gratuita per chi ha un deposito di meno 1000 euro un deposito di almeno 1000 euro sull'antigrid potete utilizzarla anche in demo perché siccome si tratta di un expert funziona anche con le demo di TIC1000 quindi potete fare tutte le prove che ritenete opportuno senza dover rischiare denaro reale mentre la dashboard l'indicatore del retail funziona solo se avete il conto reale con TIC1000 poi vi avevo dato anche una versione gratuita dove andarlo a vedere che è praticamente la versione dell'outlook di MyFXbook che è fatto molto bene e quindi qui avete un po' sostanzialmente la stessa dashboard che avete lì sulla MT4 mancano alcune cose se andiamo a mettere sul grafico come ad esempio il prezzo meno di carico che è molto importante però si riesce a lavorare anche sulla versione web qualora non vogliate aprire un conto con TIC1000 quindi anche la domanda numero 3 dove prendo questo indicatore ho sostanzialmente disposto poi questi strumenti li potranno utilizzare solo i clienti TIC1000 ok abbiamo anche qui risposto che time frame è meglio usare allora sul time frame io personalmente per questione di tempo ma anche poi di operatività mi trovo molto bene su un H1 quindi il discorso sia della volatilità bassa di comprare in volatilità bassa che in volatilità quindi evitare la volatilità alta io lo faccio sempre sul time frame H1 e quindi le entrate vengono fatte lì dall'anti grid potete utilizzarlo su qualsiasi time frame poi quando vi spiegherò il pattern e l'ingresso valuterete voi se è il caso di filtrarlo oppure comunque utilizzare i time frame più alti poi allora l'experta è una funzione che consente di entrare all'incrocio dell'indicatore no, in realtà l'experta è una funzione che non fa nulla se non gli diamo il comando quindi la funzione dell'incrocio può essere però appunto creata con un alert come vi ho fatto vedere dalla dashboard quindi inserendola diciamo come ad esempio il discorso di USD Yen che è quello che attualmente ha fatto un primo incrocio quindi potrebbe essere un potenziale ingresso in questo caso e qui vado a inserire la percentuale che mi può interessare quindi in questo caso siccome c'è un interesse del 52% se aumenta potrei mettere meno 55% e quando raggiunge meno 55% operare questo quindi può essere un'idea però l'experta non fa non entra l'antiquid se non gli diamo nel comando quindi si incrocia la questa non ho capito bene questa domanda ma credo che si riferisse al primo incrocio quindi ci deve essere la sovrapposizione delle due linee quindi la linea verde che sono appunto i rialzisti e la linea rossa che sono i ribassisti si incrociano tra loro quindi per me quello è un primo incrocio un segnale degno di nota che possiamo iniziare a filtrare e quindi un po' questo poi collega ci sarebbero stati due falsi segnali prima di prendere il trend vi ho detto che ci possono essere falsi segnali nessuno lo mette in dubbio però dobbiamo applicare la regola di aspettare almeno che un 60% inizi a prendere a prendere comunque confidenza quindi ad entrare contro il mercato dicevo anche poi di tener conto delle medie mobili perché quando incrocia la media lenta con quella veloce può essere un segnale che se noi abbiamo anche la corrispondenza sul lato incrocio dei retail possiamo farlo short e un'altra cosa molto interessante poi vi farò vedere con l'antigrid è andare a vendere i supporti quindi queste linee rosse e non le resistenze perché se noi vediamo questo incrocio qui sulla sterlina la sterlina in long anche se qui ci aveva dato uno short la sterlina non è andata a rompere a conquistare la prima resistenza utile che era questa qui mentre su questo caso qui vedete che la sterlina si trova sotto i supporti quindi diciamo anche da un punto di vista meramente tecnico è molto più predisposta allo short che altro quindi questi un po' sono i filtri dei farsi segnali che comunque potrebbero assolutamente esserci quindi quello nessuno lo mette in dubbio ma segui sempre in H1 personalmente sì ho fatto delle prove all'inizio su un M5 l'ho provato in intraday anche l'ultimo mese sulla sterlina però non sono riuscito a seguirlo quindi lì bisogna starci un po' tutto il giorno sui monitor e se si fa altro è difficile seguirlo perché i cambiamenti di scenario da parte di rete possono essere dei pentini e se si opta per una diciamo operatività in 3 day poi si rischia di fare i risassi se poi non si riesce a seguirlo quindi io preferisco l'H1 perché mi fa fare quella entrata appunto durante la notte e basta poi o arriva a target o va a stop quindi non nulla di così impegnativo allora poi se guardi il grafico del 4 marzo già si erano incrociate era il segnale più pulito quello questo forse si riferisce sempre all'esterlina abbiamo già visto abbondantemente che appunto si possono filtrare gli incroci non avvengono vicino al 50% sì assolutamente quindi quando appunto abbiamo situazione di equilibrio lì che ci dobbiamo allarmare perché può succedere sempre qualcosa di interessante adesso euro dollaro è in fase di accumulazione ci fa vedere su 5 minuti non avrebbe molto senso vederlo su 5 minuti però euro dollaro ieri l'abbiamo analizzato come potenziale long che avrebbe almeno preso la prima resistenza in area a 1,08 e 30 cosa che ha fatto perché ieri c'era stato un parziale interesse short da parte dei trader e quindi si era creata quella sorta di accumulazione dei prezzi meno di carico di chi era al ribasso poi la lateralità la rilevi con la TR o con l'indicatore la lateralità è quasi impossibile da rilevare perché te ne accordi sempre con con il senno di poi perché ogni volta che comunque entri su un setup puoi sempre sperare che parte il movimento però se si muove in laterale c'è poco da fare quindi in quel caso la TR mi serve solo a livello ciclico perché la TR se noi andiamo a vedere appunto su un grafico H1 e mettiamo anche un separatore di periodi vedete come è molto ciclico quindi alterna fase di bassa volatilità durante le ore notturne che sono poi quel setup in ingresso a fase di movimenti direzionali oppure alta volatilità che appunto arrivano con le sessioni di Londra e New York per poi arrivare nuovamente a un picco e ciclicamente riscendere sempre questa cosa si ripete in maniera ciclica giornalmente proprio perché almeno che non ci siano casi trattanti come magari abbiamo vissuto anche questi momenti dove magari la volatilità è impazzita rimane quasi sempre sopra un range però questa regola ma è proprio dovuta a un discorso di liquidità sul mercato di volumi inferiori si ripercuote anche su grossi trend e su grossa volatilità come in questo momento perché c'è sempre un picco di salita e poi una discesa della volatilità l'ATR Alex Anna dice serve anche per calcolare la size più che altro sì la size ma a me questo picco di volatilità serve per lo stop io questo stop io devo quando entro sull'H1 poi vi spiego bene l'entrata però mi vado a prendere il picco di volatilità del giorno prima perché mi serve per vedere un po' qual è stato l'estremo di volatilità il picco di volatilità che è arrivato in quella giornata così in modo tale che io faccio l'entry magari appunto su un livello e lo stop sarà dato dal minimo del momento sul partner swing e poi lo dispiego più questo picco di volatilità e da lì metto la mia percentuale di rischio che è tra lo 0,10 e lo 0,15 per cento e lui in automatico mi calcola la size quindi in buona sostanza sì Alessandra funziona anche per la size direi che indispensabile quindi bisogna fare l'esatto contrario dei retail sì questa è diciamo una regola aurea però a volte appunto nelle fasi di eccesso non dobbiamo andare ad occhi chiusi perché vediamo un 90% che è esposto long ma dobbiamo fare tutto quel ragionamento sui prezzi medi di carico perché non è sempre così semplice perché se un trend è persistente magari ci può andare anche bene vedere solo la percentuale e fare l'esatto contrario però ci sono quei respiri del trend che ti possono creare dei problemi come si è appunto pullback per andarsi a riprendere magari i massimi o i minimi che poi puntualmente invece sono delle fasi in inversione quindi va va sempre controllato però in buona sostanza si fa il contrario di quello che fanno che fa la maggior parte dei retail e su questo c'era stata una domanda su del perché fare il contrario dei retail se la maggior parte attualmente sta guadagnando ho detto bene perché se voi andate sull'outlook ci sono delle statistiche che myfxbook sta pubblicando che sono molto interessanti si riferiscono a tutti i conti che ci sono su myfxbook che attualmente abbiamo questo volume se noi andiamo a guardare chi è in profitto abbiamo in profitto il 57% contro un 42% che non è in profitto quindi mi è stata fatta la domanda oggi su facebook dicendomi ok ma perché andiamo contro i retail si ho visto dalle statistiche che la maggior parte dei trader invece stanno guadagnando questo qui purtroppo è una statistica falsata perché su myfxbook che cosa quali conti noi abbiamo abbiamo i conti di chi decide di sua sponte di agganciare il proprio conto che ha con il broker x o y a questo provider che poi va a monitorare un po' tutte le le varie statistiche dei conti quindi molti la utilizzano per vendere i propri prodotti quindi per far vedere appunto le loro le loro performance o altro o semplicemente per tenere un diario però c'è una modalità quando voi caricate questo conto su myfxbook dove myfxbook vi fa la domanda se volete che questo conto venga registrato sotto le statistiche appunto dell'outlook di solito è fregato in automatico quindi se non ci fate caso venite in automatico inseriti in quelle diciamo calderone però che cosa succede che quando capita spesso la maggior parte dei trader inizia a perdere la cosa che la prima cosa che fa è scollegare il conto di myfxbook e quindi toglierlo da quelle statistiche e quindi sembra che ci sia sempre comunque la maggior parte in profitto però ovviamente togliendo quel conto dalle statistiche non possiamo più sapere se quel conto sarà profittevole oppure meno e quindi quello è un discorso da fare da non tener conto quella statistica lì ma tener conto delle statistiche ESMA che il broker per cui TicMe pubblica e anche poi il movimento dei prezzi medi di carico che abbiamo visto anche in queste nel precedente webinar ok poi appena iniziano a salire di short non si prova a invertire è geniale quindi qui ci faceva riferimento l'utente alla mossa da fare su SDGN quindi cercare appunto di fare il contrario di chi ha una visione su un determinato asset e quindi cercare di fare il contrario poi questa qui nel momento in cui il prezzo medio di carico degli short si alza si può pensare il min reverting questa anche era una domanda fatta su SDGN esatto se poi c'era un interesse da parte dei trader a ribasso allora lì si cerca il long questa era una domanda anche che interessante perché mi chiedevano ma se aumentano gli short non è che invece stanno più rendo i long in realtà questa non è proprio così perché noi abbiamo sia dall'indicatore sia la percentuale dei long che quella degli short e abbiamo visto che contestualmente quando diminuisce una aumenta l'altra e ce ne accorgiamo anche dai lotti soprattutto dai lotti perché se abbiamo un aumento dei lotti e una diminuzione da una parte è vero che una parte dei trader era chiusa ma dall'altra parte stanno aumentando le posizioni quindi bisogna sempre controllare le due linee quindi poi abbiamo quasi finito quindi è importante la percentuale non i prezzi medi di carico no assolutamente i prezzi medi di carico sono importantissimi ma anche le percentuali quindi una non esclude l'altra questi long e short si vedono anche sugli indici sì possiamo vederlo sugli indici ma non abbiamo una popolazione statistica che ci permette di avere un quadro generale forse solo sull'S&P dove abbiamo superato i 100 lotti però come dicevo i CFD su questi indici a livello globale non hanno dei volumi come ad esempio il Forex allora poi certo che se ci si mettesse insieme a questa indicazione anche lo studio di forza giornaliera di un cross si potrebbe avere una situazione molto più chiara da tradare si può usare anche un indicatore di forza quindi che ne so se il dollaro è forte in un determinato momento poi l'avevo anche detto diciamo che a livello macroeconomico in questo periodo il dollaro è molto forte oppure in questo periodo si va verso le valute rifugio quindi si può filtrare in questi casi e prendere i segnali solo in quell'ottica lì il problema secondo me è un po' sostanziale in questi casi che se magari arriva un'inversione di quella forza noi ce ne accorgiamo sempre troppo tardi però secondo me già i prezzi medi di carico riescono a intercettare bene anche questi questi movimenti quindi poi potresti fare vedere l'entrata come esempio dove metti lo stop questo quello vediamo dopo quindi lo stop lo calcoli dal picco di volatilità in tre dei non consideri quello della tabella excel quindi è da qui su questa domanda adesso passo all'altro argomento che è la tabella excel allora io lo stop lo calcolo sulla picco di volatilità però dell'atr però ieri ho fatto vedere una tabella excel forse sto dividere i numeri di lotti con i numeri di posizione per non avere una media spera di essere allora fedele fa una domanda scusate Giuseppe una domanda forse stupida mai mai pensato di dividere il numero di lotti con il numero di posizione per avere una media spera di essermi spiegato sì questa cosa qui adesso la domanda anzi è molto intelligente perché ci dà un ratio sulle posizioni è una cosa che verrà aggiunta in un secondo momento quindi vedremo anche un po' la media dei lotti che hanno queste posizioni perché su noi abbiamo tre sostanzialmente tre informazioni sull'indicatore la percentuale dei retail poi il numero dei delle posizioni che su euro dollaro attualmente sono molto ravvicinate tra loro quindi non si vede nemmeno bene dobbiamo fare forse uno zoom però non sono intorno ai 46.000 entrambi e poi anche il numero dei lotti che anche in questo caso sono molto vicini tra loro quindi nella situazione di euro dollaro in equilibrio e quindi possiamo anche poi andare a dividere i lotti per quelle posizioni per vedere che peso ha una determinata fazione tra i rialzisti rispetto ai rialzisti quindi poi sì allora vi sto facendo vedere la tabella excel perché questa è una tabella che andrebbe aggiornata almeno una volta a settimana però non ho sempre tempo di farlo però già farlo una volta al mese è importante non tutti gli strumenti sono adatti in buona sostanza dovrebbero bene soltanto anche solo le measure perché hanno i volumi più alti io che cosa ho fatto in questa tabella ho riassunto tutti i lotti prendendoli in riferimento del 21 marzo per avere un diciamo un volume complessivo delle dei lotti che ci sono attualmente su MyFXbook che sono circa 293 mila lotti una sorta di open interest per capire un po' l'interesse che c'è da parte dei trader retail sul appunto sul mercato poi mi sono andato a prendere tutto il volume dei lotti dei vari dei vari strumenti e li ho classificati in base un po' all'importanza quindi va da sé che ho dato comunque una linea di demarcazione in sostanza sotto i 2000 lotti è preferibile non andare ad operare per due motivi uno perché ovviamente abbiamo pochi lotti poca popolazione statistica poco campione statistico campione statistico non significativo di solito questi cross che hanno pochi volumi sono anche quei cross che fanno i maggiori scherzi durante i weekend e durante le fasi notturni con allargamento degli spread proprio perché hanno meno liquidità rispetto agli altri quindi hanno io poi ho divise per range di spread e questo mi serve anche per capire perché se tra una settimana due settimane GPBNZD sale la classifica da 189 mi diventa uno dei cross più tradati e lo spread si abbassa GPBNZD entra di diritto nel diciamo nell'analisi di retail che io faccio però per il momento io prima devo farmi tutta l'analisi sugli strumenti partendo sempre da euro-dollaro perché il più liquido è quello che mi dà il range meno e più basso possibile di spread meno scherzi non vediamo dei gap clamorosi su euro-dollaro da tempo in meno rispetto agli altri quindi è quello che dà più garanzie da lì poi passare per tutte le altre measure quindi se non ci sono segnali ed è difficile perché c'è un segnale ci sono più di un segnale ogni sera se non ci sono segnali allora al limite si può decidere di tradare su questi ma questi rossi cambi qui per il momento sono fortemente sconsigliati solo se appunto hanno parte l'interesse da parte delle retele quindi iniziamo a vedere degli aumenti dei volumi però per il momento questo file excel mi dice che devo focalizzarmi su questi cambi qui quindi partendo dall'euro-dollaro fino a gpb yen dopodiché quindi ho preso il range negli spread il volume dei lotti la vola settimanale anche questa è un'indicazione molto interessante per capire come che volatilità c'è e attualmente la volatilità su questi cambi è altissima è esplosa su euro-dollaro la vola delle ultime quattro settimane è di 400 pips era annuale di 140 pips quindi è triplicata sostanzialmente questa questa vola e il valore pips per ogni cambio quindi ogni cross perché ogni cambio comunque cross ha il suo valore in pips e il peggior loss quindi il peggior scenario che io potrei prendere in questi momenti se dovesse aprire una sola posizione e dove l'ho calcolato dalla vola massima delle quattro settimane quindi nel caso ipotetico andassi ad entrare long su euro-dollaro con la volatilità di adesso prendersi 400 pips significa che su un conto da 100.000 euro avrei una perdita del 3,7% quindi questo un po' mi fa capire la rischiosità dei vari strumenti e quello più attualmente pericoloso quindi che bisognerà fare attenzione è la sterlina contro il dollaro perché è quella più volatile quindi quella più costosa che nel caso andassimo a prendere lo stop di tutta la volatilità che ha prodotto nelle ultime quattro settimane che sono 640 pips avrei uno stop su un lotto quindi entrando con un lotto prendendomi tutta questa volatilità in faccia su 100.000 euro avrei uno stop del 6% quindi questo è diciamo quello più rischioso ma se è rischioso da una parte è anche quello più promettente sul lato del gain perché ovviamente ha più volatilità quello meno rischioso attualmente è euro franco euro franco che ha una volatilità molto bassa che è dello 0,9% però qui dobbiamo fare un altro discorso a livello macroeconomico perché dai rumors che ci sono in giro su euro sul franco si dice che la S&P non voglia più tenere il floro a 1,05 che quindi si possano vedere degli scenari diciamo un po' drammatici nel caso dovesse un po' mollare il colpo perché comunque tutti gli altri paesi comunque vedono il franco come valuta rifugio e stanno convertendo in franchi e l'S&P non si vuole troppo caricare di valuta estera in questa situazione sicuramente rischiosissima e incerta come quella dei mercati quindi questo è quello che ci dice la tabella e poi io ho messo sul conto attuale che è di 12.000 euro dove sto provando questo progetto lo stop il peggior stop che potrei prendere sul mio conto da 12.000 che attualmente appunto quello peggiore sarebbe su sterlina dollaro e poi pips ideali invece per avere il mio 0,15% di stop quindi lo 0,15% di stop dovrei pagare dovrei rischiare massimo 193 pips questa cosa a cosa mi serve ieri c'era stata una domanda che mi diceva perché appunto era la domanda numero 22 perché prendi la TR invece di questi di inserire indiettamente i pip che vedi qui della tabella perché io voglio che sia il mercato stesso a darmi la size perché vi spiego questi sono i 193 pips che io automaticamente se inserisco 193 pips attualmente perderei sempre lo 0,15% sul mio capitale però può capitare che una giornata daily non lo sta facendo in questi giorni perché sono sempre volatili però può capitare che io magari si possa creare una giornata a basso range come in questo caso dove io magari voglio entrare e buy visto che il rischio è 0,15% la size che viene calcolata dall'entrata del pattern che tra poco vi spiego più la volatilità se la volatilità è bassa quindi io sto lavorando su una barra a basso range automaticamente la mia size sarà più alta proprio perché io rischio sempre lo 0,15% ma quello 0,15% è basata sulla mia volatilità quindi io avrò sempre una perdita potenziale dello 0,15% però la size sarà più alta e quindi in quel caso potrò anche avere un maggiore guadagno rispetto che entrare sempre con lo 0,15% indipendentemente dalla volatilità questa è un po' una cosa una chicca che è molto interessante spero che sia chiaro allora io appena vedo se ci sono se c'è qualche domanda e poi passo alla spiegazione del pattern l'ingresso allora vediamo Attilio ma studiato il COT potremmo prevederlo o meglio avere un'idea di direzione che può confermare la forza di giorno che ne pensi? sì il COT si può anche utilizzare però il COT è molto lungo periodo quindi a volte cozzano le due cose perché non sempre diciamo il COT ti dà quell'ingresso diciamo quel timing perfetto ci vuole un po' di tempo quindi magari ti può mettere anche un po' alla prova con si fa magari due o tre figure di ribasso e poi va nella direzione che appunto il COT ci dice in questo caso io un po' tenderei a utilizzare solo il movimento dei prezzi medi di carico però io vi dico questo è come lo utilizzo io poi se c'è un modo di lavorarlo in maniera differente secondo sempre questa logica per me alla fine l'importante è che se non va dove comunque come l'abbiamo pensato di mettere lo stop e di non lavorare appunto senza stop perché altrimenti poi facciamo la fine della maggior parte dei retail ok poi mi chiedono sulla registrazione sì sarà disponibile vediamo se l'ho attivata la resta sì ok allora adesso vi faccio vedere l'ingresso partendo un po' da quelle che erano state diciamo le tre analisi di ieri su euro dollaro su NZDUSD e su euro yen che sono andate tutte e tre sui target che appunto avevo ipotizzato per pura fortuna e su cosa si basa l'ingresso allora aspettate che vi faccio vedere senza un indicatore levo vediamo se qui ho degli studi allora cancelliamo allora abbiamo detto che entra in bassa volatilità l'expert quindi questo è NZD yen mettiamo euro dollaro allora ieri avevamo visto appunto una potenziale occasione long su euro dollaro per andare a prendere l'area di 1.0831 dove tra l'altro c'erano i prezzi medicali con chi era il ribasso allora l'expert entra con abbiamo detto in bassa volatilità quindi quando la volatilità inizia ad abbassarsi di notte e inizia a ragionare dalla mezzanotte in poi io almeno l'ho attivato dalla mezzanotte in poi sull'H1 quindi si deve formare un diciamo un pattern cosiddetto swing ossia si deve si devono creare queste zone che anche il fractal le vede molto bene che sono queste zone dove si susseguono delle barre rialziste se arriva una arriva poi una barra ribassista questa per me è uno swing quindi l'expert che cosa fa piazza una buy stop sopra questo massimo quindi questa barra rossa deve chiudere sto parlando sempre di chiusura e quindi va a piazzare una buy stop su questi livelli attivandola da mezzanotte lui va a vedermi l'ultimo swing che si è creato del giorno precedente che in questo caso su euro dollar era questo delle 20 di ieri sera quindi lui va a piazzare una buy stop qui sopra quindi una sostanza qui in buy stop e dove calcola lo stop loss va a piazzarlo sul minimo del giorno daily quindi in questo caso il minimo si è già formato in area 1 07 e 21 e in più gli do quel margine che dato dal picco di volatilità che sono 55 pips questo per evitare le false rotture che si viene a prendere il minimo e poi va dall'altra parte quindi in buona sostanza lui da questo minimo si calcola altri 55 pips e quindi in area l'entrata di ieri era stata calcolata con uno stop in area 1 06 66 quindi da qui va a calcolare tutto lo 0 15% e e poi ovviamente quando arriva al target come vi avevo fatto vedere ieri che era 1 08 e 31 si mette a break even vediamo un'altra entrata quella che ho fatto proprio su nzdusd che è ancora in macchina questa sua nzdusd è stata ancora molto più meno volatile rispetto rispetto a euro dollaro perché si è creato qui il pattern swing quindi candela verde candela rossa molto semplice quindi è l'alternanza tra la candela verde e la candela rossa quindi lui piazza una buy stop qui sopra con un minimo di diciamo di tolleranza dal massimo che di pochi pips e da qui poi quando arriva al target viene messa a break even quindi il target viene dato dalla prima resistenza utile che troviamo sul su un grafico daily quindi ho il massimo precedente quindi della candela daily come in questo caso può essere nzd usd dove c'è ancora un potenziale attacco rialziste infatti molto probabilmente dopo attiverò long anche qui nzd usd per poi scalare con i vari target vediamo questo expert che suona però vedete che nzd usd il primo l'altro target sul weekly è molto lontano perché non ancora perché ha come massimo quest'area qui il massimo weekly potrebbe arrivare qui come secondo target in area 0.6156 ma è molto ambizioso quindi molto probabilmente se già riesco ad entrare su un nzd usd e a prendermi questa resistenza in area 0.58 è già un buon trade però se uno poi vuole creare una sorta di piramidazione questi sono poi i target che si possono creare ricavano in maniera molto oggettiva quindi ti vai a prendere il primo massimo utile che in questo caso 0.6156 e poi se vuoi ancora di più far correre una posizione ti ricavi anche l'altro massimo sul grafico mensile che ha le 0.6455 quindi in tutta questa salita qui puoi costruire delle situazioni piramidali perché sicuramente se sale il prezzo di nzd usd la maggior parte dei trader si metterà sempre short quindi non vedremo mai un aumento dei long se vediamo nzd usd salire quindi questa è un po' la sostanza sia la spiegazione del target che del pattern ingresso quindi alternanza delle barre verdi con rossi in caso di buy quindi arriva una candela verde semplicemente poi una candela rossa si piazza una buy stop lì sopra di contro se arriva una candela rossa seguita poi da una candela verde invece viene piazzato fa un tentativo di sell su questi livelli qui e lo fa sempre in bassa volatilità in modo tale che questo range sia il più basso possibile perché è una cosa entrare qui in bassa volatilità è una cosa farlo qui su questo livello perché è la volatilità molto più alta quindi per questo il trucco di andarlo a comprare in bassa volatilità vi è chiaro un po' il segnale di ingresso così passiamo l'analisi per la giornata di domani ok ottimo allora io direi adesso vi ripeto questa questa prima settimana io un po' spiego ci saranno le registrazioni poi dalla successiva sarà molto operativo non ci saranno le registrazioni perché non andrò non staremo un'ora ogni sera perché sarebbe insostenibile cioè se ci sono le occasioni le vediamo insieme quindi io vado a impostare l'operatività su quei 4-5 cross quindi magari un webinar può durare 15-20 minuti un altro durerà 5 minuti perché non ci sono opportunità quindi sarà diciamo un incontro che facciamo per mantenere sempre vivo questo tipo di progetto e quindi capisco che ci sarà meno gente di quella che c'è adesso perché adesso c'è l'interesse la curiosità di capire ma molti di voi abbandoneranno perché non reputeranno diciamo magari corretto oppure comunque profittevole questa o troppo difficile per altri mili motivi quindi non avrò sicuramente la stessa audience che ho adesso però questa settimana mi dedico in maniera molto scrupolosa alla spiegazione quindi se avete delle domande specifiche io poi le prendo adesso in considerazione le vado un po' ad affrontare però dalla prossima sarà direttamente analisi operativa e basta senza spiegazione del perché per come allora io oggi nella chat operativa allora mi ero segnato alcuni cambi da vedere allora il primo è l'euro yen allora euro yen io euro yen oggi l'ho fatta l'operazione è arrivata sul doveva arrivare allora euro yen è stato molto tecnico perché avevo dato come primo diciamo target l'area di swing in area 120 e 28 e c'è arrivato e adesso è lì che ci pensa però cosa è successo sul lato retail che sono aumentati i retail short io mi sono segnato i prezzi meno di carico delle 5 e mezza e adesso vado a vedere se c'è stata una variazione allora alle 8 di questa mattina avevamo il prezzo meno di carico di chi era ribasso a 118.52 oggi alle 17.30 è aumentato a 119.02 che cosa significa questo vediamo se in chat avete capito perché è aumentato secondo voi il prezzo meno di carico dei ribassisti quale occasione ci può dare adesso ok sono entrati più short un'entrata long ottimo ottimo siamo siamo sul pezzo ok e in effetti c'è un'occasione long che io adesso voglio continuare a lavorarla anche perché l'euro yen è appena partito quindi abbiamo un incrocio delle medie mobili e quindi l'unica cosa che adesso devo andarmi a vedere se questo prezzo meno di carico 119.02 che nel frattempo quello che vedete qui la linea verde sono i rialzisti che nel frattempo se ne sono scappati perché stamattina era 120.13 e adesso 120.87 quindi significa che si è perso interesse perché quando sale il prezzo medio di carico di chi ha rialzo si allontana dal prezzo mentre il prezzo medio dei ribassisti insegue questo prezzo quindi sta cercando i ribassisti stanno cercando di migliorare il loro prezzo chi ha rialzo ha perso interesse quindi vedete qui che stamattina avevamo più interesse long poi si è perso man mano adesso il 32% abbiamo un 68% però questa era una fotografia che io ho scattato alle 5.30 però vediamo se adesso ho ancora questo prezzo medio di carico è aumentato 119.02 quindi ricordate il 119.02 adesso ve lo vado a vedere questa cosa io qui la faccio in manuale ma ho già detto a Salvatore di automatizzarla perché io voglio avere una fotografia sul prezzo medio di carico di Londra New York in modo tale che io ho già un colpo d'occhio posso vedere il cambiamento dei prezzi medio di carico però adesso lo facciamo manualmente allora Euro Yen mantiene sempre comunque ricordate la tabella un livello di interesse alto quindi vado a prendermi la tabella anche quindi Euro Yen si trova al 1 2 3 4 5 6 al settimo posto ha un range di spread questo è basato su TIC 1000 nel peggiore dei casi tra 10 e 20 quindi queste sono le diciamo è un'attenzione questa da fare il venerdì più che altro però il volume lott di 10.300 che è aumentato rispetto appunto a questo dato del 21 quindi c'è ancora più interesse diciamo che ha poca volatilità attualmente perché anche se dovessi prendermi la sua vola delle 4 settimane sarebbe 1,8% questo è un po' il diciamo il peggiore degli scenari in caso ci fosse un gap perché non lo possiamo escludere uno slippage per qualsiasi motivo noi dobbiamo sempre tener conto che le cose possono andare di male in peggio quindi calcolandolo sulla piena volatilità possiamo avere una diciamo possiamo già capire che anche se dovessimo prendere l'intera volatilità in faccia comunque avremmo una perdita non troppo così dannosa ovviamente va fatta a leva bassa io non so prendere nemmeno in considerazione leve oltre 5 o 10 qui stiamo lavorando a leve basse perché questo è vero training non uccidersi con la leva perché lì è un po' casino può andarti bene può andarti male però in questi casi quindi cerchiamo di mantenere sempre la leva bassa e lo 0,15% mi costerebbe 213 pips quindi adesso vediamo se ho uno stop inferiore rispetto a questi 213 pips però devo andarmi a vedere prima se i prezzi veni di carico sono aumentati o diminuiti allora 118 e 118 e 99 118 e 99 aglia allora 118 e 99 siamo lì potrei ancora darlo per buono però se sono entrati long questa l'abbandono cioè se adesso io vedo che un prezzo medio di carico 120 87 è inferiore significa che su questa fascia di prezzo perché io l'ho preso le 5 e mezza su questi prezzi qui sono entrati i rialzisti quindi io qui cerco di non farmi incastrare e quindi poi se adesso quindi questo 120 2087 e vado a venire un prezzo medio di carico è inferiore io non entro e quindi l'abbandono vediamo un po' euro yen 120 e 74 120 74 e purtroppo sono entrati long 120 e 74 e che è un po' questo passaggio perché è fondamentale per evitare degli errori clamorosi che noi lo vediamo che si è alzato quindi è andato long diciamo che bello domani chiudiamo chiudiamo gli occhi e andiamo long no dobbiamo vedere come si sono mossi nell'ultime ore visto che adesso sono le 10 la volatilità andrà via via scemando noi si commentiamo in bassa volatilità questo scenario qui è il più realistico possibile quindi è la fotografia migliore che noi possiamo avere prima della nostra entrata non ho capito come fa il confronto dei prezzi di carico allora Gianluca vi è chiaro però parte Gianluca e gli altri è chiaro un po' come il ragionamento sui prezzi medi di carico è massimo ho scritto sì massimo sì 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 Alessandra io non ho capito ok sì ma diciamo che sì non molto non proprio anneggio io ho capito che devo mettersi all'opera scambatore e quindi quando sarà solo si è così la trova sempre interessante allora adesso la spiego sull'altra quindi euro yen la limino non 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 entro per il momento perché appunto si è perso interesse poi magari va long ma diciamo non non segue quelle che sono le mie logiche allora l'altra era NZDUSD allora questa sta correndo quindi qui sicuro che ora entrano short allora per chi non ha capito li vedete questi prezzi meno di carico questi numeri qui 0 58 26 0 62 45 1 in verde 1 in rosso sono i prezzi meno di carico in rosso dei ribassisti e in verde dei rialzisti è una fotografia delle 8 di mattina cioè che cosa fa l'indicatore ogni mattina alle 8 mi scatta la foto di come sono posizionati i ribassisti e i rialzisti quindi che cosa ottengo da questa informazione vedo rispetto alla stessa orario di ieri la variazione quindi che prima conclusione posso trarre che rispetto i rialzisti questo 71% rispetto alla giornata di ieri stesso orario alle 8 di mattina la pressione rialzista è diminuita di un 3% ok quindi questa è l'informazione che io ho quindi ok dico se è perso l'interesse long magari è aumentato quello short e in effetti quello short nella giornata di questa mattina alle 8 era un 29% la giornata precedente quindi sempre stesso orario alle 8 era un 26% quindi un 3% è aumentato è aumentato l'interesse per lo short quindi siccome un nuovo 3% sostanzialmente è entrato short io cerco il long ok quindi faccio il contrario di quello che fa il 3% su questi prezzi attualmente ok però io questa è una fotografia che ho alle 8 del mattino quindi se io non guardassi più questi questi prezzi meno di carico e mi baserei soltanto su questi due livelli potrebbe essere fuorviante perché dalle 8 di mattina fino alle 9 di sera sono passate diverse ore quindi questo scenario può essere cambiato quindi lo studio da fare è un altro fare una fotografia a step questo lo farà l'indicatore però quello che voglio è di imparare un attimo a ragionare perché così entrate nella logica poi di questa analisi di retail quindi proprio perché iniziate a fare proprio il contrario di quello che fa la maggior parte dei trader proprio per il ragionamento che c'è dietro quindi capirete anche un po' delle dinamiche diverse di quello che un po' gli errori comuni che vengono fatti che è il tipico quello di di comprare i minimi vendere i massimi proprio perché sono molto relativi quei minimi e massimi li definirei soggettivi e quindi proprio questa soggettività del trader retail di cercare sempre di comprare il minimo di vendere il massimo crea i maggiori danni e quindi in questa occasione i prezzi di ricarico ci aiutano allora io però che cosa ho fatto quindi queste sono le 8 del mattino ok mi sono andato a fare una fotografia alle 17.30 e l'ho scritto nella chat operativa per vedere che variazione c'era stata rispetto alle 8 del mattino quindi mi sono preso una linea rossa che sono i ribassisti che è a 0.58.42 quindi questo mi sta a indicare che rispetto a questa mattina su NZDUSD sono entrati altri short ok vi è chiaro questo passaggio perché se stamattina avevamo 0.58.26 adesso abbiamo 0.58.42 visto che si è alzato il prezzo meno di carico significa che sono entrati più short ok il mentre alle 17.30 il prezzo meno di carico di chi era long si è trovato sostanzialmente in area 0.62.42 in linea con quello di questa mattina quindi è un dato attualmente in linea quindi è diminuito di 3 pips quindi significa che anche qui c'è stato un leggero aumento ma siccome da 0.58.42 a 0.58.26 sono molti più pips significa che c'è più interesse short che è long comunque ce ne accorgiamo anche dalla variazione delle percentuali perché questa mattina eravamo al 24% quindi se non riuscite a a fare questo calcolo sul prezzo meno di carico andatevi a guardare la percentuale 24% ora siamo al 30% però a me interessa adesso avere un ulteriore step vedere ora alle 10 come sono posizionati i trader voglio capire questo prezzo meno di carico se è aumentato o diminuito perché se è diminuito quindi se è abbassato la diciamo l'interesse da parte dei trader al ribasso è venuto meno se si è alzato significa che sono entrati ancora più short stessa cosa al lato long se questo prezzo meno di carico si è alzato allora l'interesse long è venuto meno ma se si è abbassato purtroppo sono entrati più long dico purtroppo perché sono long e quindi va contro la mia view perché molti vedono quest'area di prezzo come interessante per acquistarla quindi adesso andiamo a vedere che hanno fatto ok Alessandra dice che ha capito quindi andiamo a vedere NZD-USD Gianluca tu ti è chiaro il passaggio? Allora quindi NZD-USD sì NZD-USD allora 0,58 e 44 che tra l'altro sono oh buone notizie qui se è aumentato perché è 0,58 e 44 anche se di poco però è aumentato sovrasta un po' la linea di prima però per farvi capire che è aumentata di due pips abbastanza chiaro vediamo un po' che hanno fatto i rialzisti 0,62 e 41 beh è rimasto comunque anche lì perché era 0,62 e 42 quindi 0,62 e 41 non si è mosso più di tanto quindi c'è più interesse short e l'ultimo step è andarmi a guardare un po' che target posso prendere su NZD-USD che sia realistico allora è il massimo di ieri di sì dico bene di due giorni fa in area 0,58 e 85 quindi sono 57 pips perché potrebbe andare a testare questi massimi qui quindi proverò adesso ad attivarlo in long e mi sposto sul server che poi tra l'altro secondo me qui andiamo a prendere questa spike e farò un tentativo quindi rischio lo 0,15 io ieri ho fatto vedere potete scegliere tra le due ho un'entrata siccome è sull'H1 si può fare sempre un'entrata allora quindi domani vi spiego tutte queste variabili qui quindi domani non perdete l'appuntamento sull'expert perché domani ve lo spiego per bene allora NZD-USD andiamo a vedere sulla tabella Excel dove è messo in classifica diciamo che è sotto un po' euro yen però mantiene un buon reggio spread prende di 0,10 3.100 lotti vediamo se sono aumentati se è aumentato un po' l'interesse sembra un po' sceso però siamo comunque sopra i 2.000 non c'è tantissimo volume però comunque diciamo che anche mantiene una discreta volatilità è lo stop che dovrei prendere per prendermi lo 0,15 di 193 pips allora Gianluca mi scrive non si sente più però io penso mi sentite vero sì allora la piattaforma ha il train stop però questo ve lo spiego domani quindi io allora adesso il range di volatilità di ieri è di 55 pips quindi qui già è impostato 55 ok il rischio metto 0,15 e quindi entrerà dalle 0 dalla mezzanotte fino alle 11 dell'orario italiano quindi posso mettere anche le 10 tanto farà un'entrata la farà quasi sicuramente quindi cercherà poi dalla mezzanotte fino alle 10 di domani mattina un'entrata long su nzd usd per cercare mettiamo appunto l'entrata per cercare il il massimo in area 0 questo 0,58 e 54 che avevo detto però 0,59 e 13 c'è già una buy quindi questo è il primo tentativo che faccio in questo webinar di piramidazione quindi io a me piace piramidare magari poi mi va contro non mi interessa però siccome rischio poco per ogni trade domani vi faccio vedere il rischio e rovina del mio di questo conto se continuo così quanto tempo ci vuole per bruciarlo quindi è un qualcosa che quanti trade ci vogliono per avere un impatto negativo sul conto quindi domani vedremo quello più appunto l'expert e quindi qui entrerò buy allora finisco e qui però vado molto veloce perché ci sono altre occasioni e mi piaceva GPB USD allora allora ho detto sì anti-martingala non proprio diciamo un'anti-martingala aggressiva perché è sempre lo 0,15 però diciamo massimizziamo perché se ci va su quei livelli entrano in bassa volatilità si possono avere buone soddisfazioni allora euro-yen NZD USD euro-dollaro euro-dollaro e GPB USD euro-dollaro e GPB USD perché euro-dollaro ha fatto una inversione clamorosa euro-dollaro qui potrei entrare short allora 0,1858 erano i prezzi medi di carico 1,858 quindi non hanno aumentato gli short e questo è buono long come sono messi 1,1041 1,10 e qui sono entrati long 1,1041 da 0,1058 avete visto che è passato 1,1041 proprio perché iniziano quanti di voi vedono il long su questi supporti su euro-dollaro e fratello che rispondete io comunque questi livelli qui proverò a shortarlo io da ieri esatto questi livelli sono molto interessanti però in maniera molto oggettiva è stato si è abbassato quindi io non so se poi andrà in andrà nel verso giusto anche un po' il cot report contro però questa qui questo short lo faccio proprio perché è molto molto oggettiva come cosa allora euro-dollaro la volatilità esplosa è però il cambio più tradato in assoluto 67.500 era il 21 di marzo siamo un po' sotto quel livello però c'è sempre interesse euro-dollaro vediamo la volatilità ha avuto di 400 pips tra le più alte mai registrate da diverso tempo anche qui ha un po' lo stesso rischio di nz di usd che erano 193 pips quindi anche qui dovrei mettere uno stop per 0,15 per avere 193 pips però sicuramente sarà inferiore allora euro-dollaro poi chiudiamo con gpb usd perché anche lì c'era un'interessante situazione però vedete come cioè di analisi operativa ce n'è da fare perché ce ne sono diverse quindi la prossima settimana eliminerò tutte le le spiegazioni perché altrimenti ogni sera un'ora e mezza non si vive più quindi evitiamo di eviterò di fare queste di prolungarmi troppo quindi molto operativo perché spero che ci sia comunque un po' di gente per analizzare insieme allora euro-dollaro quindi short la volatilità il picco di volatilità è 55 0,15 rischio ok lo short vediamo che obiettivo potrebbe avere su euro-dollaro euro-dollaro potrebbe andarsi prendere questo minimo il minimo di oggi poi sostanzialmente che area 1,07 e 21 quindi io diciamo come step dove voglio mettermi a brecchimene è area 1,07 e 21 quindi vi dico un livello target che è 1,07 e 21 è quest'area qui che è il minimo appunto di di ieri poi lì metterò brecchino e poi comunque anche lì come nz di usd cercherò una situazione piramidale ti puoi allenare in demo ma con con l'antigrid sì con l'antigrid è in demo la giornata facendo la giornata sì allora Vincenzo sono d'accordo perché sì facendo due tre fotografie durante la giornata e facendo considerazione sulla magnifica dei prezzi cari si può entrare anche o meno su qualunque strategie quando dovesse presentarsi un segnale sì si può fare è una buona idea cioè Vincenzo dice se tu fai due tre fotografie sui prezzi medi di carico e magari tu entri di notte con la volatilità però io non voglio operare durante quell'orario anche se lì sei sempre in bassa volatilità però se tu fai una fotografia scatti alle 9 aspetti l'apertura di Wall Street vuoi operare solo durante Wall Street ti fai la seconda fotografia di Wall Street e vedi se sono entrati più retai long cerchi lo short su quella sessione però lì secondo me dovresti abbassare un po' il time frame per ridurre un po' diciamo il pericolo di prendersi stop troppo rapidamente però ti ho capito bene Vincenzo la tua domanda è un'ottima riflessione perché tu fai due tre fotografie e puoi fare anche comunque una sorta di intraday l'ultimo e poi chiudiamo gpb usd perché gpb usd ho visto che sono entrati gli short su questi livelli era 1.18.21 questa mattina 1.18.66 quindi c'è stato molto interesse quindi vediamo se è aumentato questo interesse 1.18.71 1.18 quindi anche qui è aumentato perché è un po' più sopra 1.18.71 e vediamo cosa hanno fatto i rialzisti che sono a 1.23.94 come prezzo meno di carico 1.23.94 1.23.89 1.23.89 è diminuito leggermente 1.23.89 però se c'è un massimo vicino qui si può anche entrare perché l'aumento degli short è stato un po' più diciamo importante questa mattina 1.18.21 aumentate di quasi 50 pips quindi vediamo un po' perché anche qui su GPPOSD c'è questo primo c'è stato il primo incrocio qui come vi ho fatto vedere che dura da diverso tempo quindi potrebbero diciamo incrociarsi nuovamente delle posizioni vado a vedere se sul daily così anche una sorta di correlazione inversa tra euro dollaro e gpb usd vediamo un po' una correlazione positiva però in questo caso andando long su euro dollaro se poi scusate short di euro dollaro e long di gp usd comunque non sono esposto in in acquisti di dollari perché appunto vendendo euro dollaro compro dollari ma se compro sterlina in quel caso venderò dollari quindi diciamo l'esposizione contro dollari è leggermente minore però gp usd ha questo bel massimo in area 1 19 39 che può che può essere ideale quindi anche qui gp usd stessa cosa tabella excel diciamo anche qui 10 20 7700 lotti come interessa inizio settimana è un po' calato anche qui però si mantiene sopra i 2000 e dicevamo è la valuta il cambio più pericoloso volatile che ci sia proprio perché può avere un impatto ha avuto una volatilità di 639 però siccome ha lo stesso valore di euro dollaro in pips sempre 193 pips costa in caso di 0,15 qui anche qui attivo long quindi short euro dollaro nz usd long e euro yen più troppo non si può fare no ok quindi la volatilità al picco di ieri è stato di 85 pips quindi vado a inserire qui la variabile 20 qui dischio per cento 0,15 ok una buy e il livello di target dove andrà a mettersi in in break even è l'area di 1,19 e il 33 ok quindi questa era un po' diciamo l'analisi su queste su queste valute allora ma usd cad non l'ho ancora usd cad non ci sono occasioni attualmente per lo short lo sto aspettando con molt'anzi perché c'è un gap da chiudere però per il momento lo lasciamo ok io direi che domani comunque rispondo alle domande che non sono riuscito a rispondere siamo un po' tutti esausti e quindi vi do appuntamento domani alle 9 di sera per il terzo appuntamento e io vi ringrazio sempre come per la partecipazione siamo sempre in tanti mi fa piacere questo tipo di analisi vi stia piacendo a domani buona serata ciao Grazie.